Grazie Presidente. Nelle ultime settimane il comune di Corato, in provincia di Bari, è stato oggetto di numerosi episodi di violenza. In una rapida sequenza dell'orrore, stile arancia meccanica, abbiamo avuto, nelle ultimi due mesi, nell'ordine, un anziano di 70 anni aggredito a calci e pugni in pieno centro. Non è scappata la tragedia soltanto grazie al coraggio di alcuni passanti. Una disgustosa aggressione nei confronti di un ragazzo disabile, insultato, minacciato, poi picchiato, salvato anche egli grazie all'intervento di un passante, anche egli aggredito e picchiato. Un'anziana di 90 anni, aggredita all'interno della propria abitazione, aveva la colpa di abitare al piano terra. I vigliacchi autori di queste eroiche gesta sono purtroppo giovani, che in branco agiscono indisturbati e colpiscono con cattiveria, in una disgustosa situazione di esaltazione ed emulazione, ma la cosa più brutta è la mancanza di risposta da parte dello Stato. Una risposta c'è stata, ringraziamo i poliziotti e i garabinieri, ma sono pochi. Per cui, Presidente, per suo tramite, chiedo alla massima autorità in materia di pubblica sicurezza di occuparsi di più di questa cittadina, di inviare più uomini, più mezzi per la sicurezza, perché Corato merita rispetto. Grazie, onorevole Sasson.